Ciao a tutti, io sono Gianni, bentornati qui sul mio canale per questo nuovo video nel quale oggi torneremo a parlare di Action Cam e visto che è una cosa che mi avete chiesto in tanti lo faremo mettendo a confronto l'Osmo Pocket DJI con la Crosstour CT9500 comparazione che ho effettuato scegliendo come location la sponda nord del lago di Garda ed in particolare la passeggiata che collega gli abitati di riva del Garda e Torbole che è davvero molto bella e che vi consiglio di vedere anche se non siete particolarmente interessati all'argomento Action Cam perché è un tratto di lago che se capitate da quelle parti vale assolutamente la pena di percorrere sia a piedi che in bicicletta prima di proseguire però come al solito se volete vedere altri contenuti di questo tipo che richiedono un bel po' di tempo specialmente in fase di montaggio vi invito a farmelo sapere iscrivendovi al canale, commentando, condividendo e mettendo un mi piace al video in modo che il maggior numero di persone possano vederlo e di questo naturalmente vi ringrazio di cuore in anticipo tornando a noi al confronto di oggi è un test che basandosi esclusivamente sul prezzo dovrebbe essere impari perché facendo riferimento ai prezzi che si trovano attualmente su Amazon l'Osmo Pocket costa più di 350€ mentre la Crosstour CT9500 si può trovare molto spesso in offerta attorno ai 60€ ai quali vanno aggiunti i 90€ dello stabilizzatore a tre assi l'OM iSteady Pro che ho usato assieme all'Action Cam per rendere il confronto più proponibile combinazione che comunque sia costa meno della metà dell'Osmo Pocket parliamo infatti di 150 anziché 350€ tutte le immagini del video comprese quelle che state vedendo ora in questo momento sono state registrate alternativamente con la Crosstour CT9500 e con l'Osmo Pocket in 4K a 50 fotogrammi al secondo non ho naturalmente fatto tagli oppure modifiche di nessun tipo in fase di montaggio e non ho neppure utilizzato filtri che per l'Action Cam non credo siano nemmeno disponibili quantomeno io non sono riuscito a trovarne e ho lasciato tutte le impostazioni in automatico per entrambi le differenze più importanti tra i due dispositivi riguardano principalmente la modalità di messa a fuoco che per l'Osmo Pocket è variabile mentre per la Crosstour CT9500 è fissa per cui la profondità di campo va da circa 60 cm all'infinito un'altra differenza come state già vedendo e come vedrete meglio in seguito è l'angolo di visione che per l'Osmo Pocket è molto più ristretto rispetto a quello della Crosstour detto questo vi lascio la passeggiata e poi al termine ci ritroveremo qui per le conclusioni è un'altra cosa che è una cosa che è stata Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.